Cosa è la fistola duodenale? Una fistola è un'apertura anormale tra due parti del corpo. Il duodeno è una porzione dell'intestino tenue e una fistola può derivare da una varietà di cause. Trauma alla zona, sviluppo del cancro o malattia dell'area possono tutti causare aperture in tessuti normalmente completi, con conseguenti perdite e potenzialmente effetti potenzialmente letali. Una fistola duodenale può aprirsi in altri organi, nello spazio addominale, o addirittura essere un buco nella pelle dell'addome, esponendo gli organi all'ambiente esterno. L'apparato digerente è composto da diverse parti. Dopo che il cibo entra nello stomaco, si sposta nella prima parte dell'intestino tenue, che è il duodeno. Qui, l'acido dello stomaco mescolato con il cibo viene neutralizzato, prima che si trasferisca sul resto dell'intestino tenue affinché i nutrienti vengano assorbiti. L'intero sistema digestivo è fondamentalmente un tubo, che sposta il cibo attraverso il corpo senza che il cibo entri in contatto con il resto del corpo, a parte i nutrienti scomposti. È rivestito da cellule che mantengono il sistema flessibile e protetto da materiale invasore come i batteri, di cui alcune sono cellule epiteliali. Le cellule epiteliali sono lo stesso tipo di cellule che costituisce la pelle. Una fistola è definita tecnicamente come un foro che mette in contatto due superfici epiteliali l'una con l'altra, e una fistola duodenale è quindi un foro nel duodeno che si collega ad un altro strato epiteliale, come la pelle esterna di un paziente, o gli strati epiteliali di un organo. Ovunque si connetta la fistola duodenale, esiste un problema medico, poiché si interferisce con il normale movimento del cibo e dei prodotti gastrici attraverso l'intestino tenue. Oltre alla riduzione del normale movimento dei prodotti attraverso l'intestino, i prodotti hanno proprietà pericolose per la salute. I succhi gastrici mescolati con il cibo sono molto acidi e questo può causare danni al tessuto con cui si connette la fistola. Le aree del corpo che non sono normalmente esposte a materiale come il cibo parzialmente digerito possono anche soffrire di problemi e il funzionamento degli organi interessati può deteriorarsi. Un sistema digestivo sano ininterrotto impedisce anche al cibo non sterile di entrare nel corpo, e la fistola duodenale può esporre i tessuti corporei agli agenti patogeni, provocando così infezioni. La chirurgia è generalmente la migliore opzione di trattamento per una persona con una fistola duodenale. Ironie della sorte, la chirurgia per problemi non correlati è una causa significativa di questo tipo di fistole. Il trattamento antibiotico e la sostituzione di liquidi ed elettroliti possono anche essere impiegati per aiutare il paziente a guarire.